Non si è parlato di sanzioni all'Iran, adesso io credo comunque che l'Iran debba innanzitutto abbassare i toni e non è questo il momento di gettare benzina sul fuoco nell'area medio-orientale. Quindi la prima cosa è importante che l'Iran comprenda che Esbolla non può continuare a lanciare missili su Israele e che non si possa più dire che lo Stato di Israele, come è stato detto anche alle Nazioni Unite, debba essere cancellato dalla carta geografica.